Può essere definito il fiore all'occhiello dell'ASAL Caserta, il centro vaccinale del presidio ospedaliero di Pietimonte Matese, coordinato dal direttore Antonio Orsi sia per i numeri che per l'organizzazione messa in campo. Anche oggi ha raggiunto una quota altissima di vaccinati, 16.000 i vaccini finora somministrati, considerando anche i 350 somministrazioni domiciliari e ovviamente lavorando con le stesse difficoltà di altri centri che devono comunque fare i conti con la disponibilità delle dosi che arrivano gradualmente. Noi abbiamo incontrato il dottor Antonio Orsi, direttore del distretto 15, per saperne di più e soprattutto per sapere come accedere nel modo più corretto al centro vaccinale. Allora, col dottore Orsi, direttore sanitario del distretto 15, le vaccinazioni qua funzionano a meraviglia, sembra? Stiamo cercando di fare il nostro meglio. Le vaccinazioni stanno andando avanti così come da programmazione della nostra azienda e della regione Campania. Abbiamo la necessità di ampliare sicuramente l'offerta vaccinale sulla popolazione perché c'è bisogno di più spazi e di più postazioni. Questo fino ad oggi non è stato fatto per mancanza di vaccini, ma penso che tra qui a qualche giorno, anche con delle postazioni diverse, penso che possiamo andare avanti e dare numeri molto più consistenti. A proposito di numeri, quante ne avete fatte di vaccinazioni? Ma nella giornata di oggi abbiamo superato le 16.000 vaccinazioni tra prime e seconde dosi. A questo dobbiamo aggiungere più di 350 vaccinazioni domiciliari. Anche qui abbiamo incominciato con le seconde dosi. Senta, abbiamo visto molte persone che quando vengono qua al punto vaccinale hanno difficoltà ad ambientarsi a trovare il sistema per svolgere in breve tempo la loro vaccinazione. Cosa può dire lei agli anziani e a quelli che si devono sottoporre in genere alla vaccinazione? Ma questo è un problema relativo. Noi abbiamo a che fare, soprattutto in questa fase, con una popolazione anziana. Chiaramente la popolazione anziana ha difficoltà nel sapere che cosa portare effettivamente per avere la vaccinazione. Quello che serve è il consenso informato con tutta l'analisi già compilata e una copia del documento di identità, fronte e retro possibilmente su un foglio e possibilmente anche senza essere spillato, perché tutto questo va scannerizzato e quindi fa perdere tempo anche per solo. Però ad oggi il 90-95% della popolazione si presenta senza niente, quindi dobbiamo prima ricercare il soggetto da vaccinare, stampargli il consenso, dargli il tempo di compilarlo, magari assisterlo anche durante la compilazione da parte di un infermiere o del medico quando ha dei dubbi sulla possibilità o meno di fare il vaccino e solo dopo possiamo fare l'accettazione. Un'ultima domanda. A proposito dell'AstraZeneca, lei se la sente di rassicurare quelli che hanno dei dubbi? Io sono, rispetto alle autorità scientifiche che si pronunciano su questo argomento, non penso di poter dare un giudizio. Il vaccino AstraZeneca è un vaccino come tutti quanti gli altri vaccini fino ad oggi utilizzati. È chiaro che c'è stato un poco di confusione già nella emissione del mercato. In una prima fase non si poteva fare soggetti over 55 anni, poi si è passata la fascia dei 65, dai 65 ai 75. Oggi pare, le notizie di ieri dicono che è preferibile farle agli over 60. Tutto questo è chiaro che ha creato delle confusioni all'interno della popolazione e quindi vede il vaccino come un qualcosa di diverso rispetto agli altri. Ma ritengo che non ha più rischi rispetto agli altri vaccini oggi sul mercato. Dal centro vaccinale di Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per casertasera.it